Bene amici, oggi scopriamo insieme l'Idea Marino 80 Bellagio, una barca con una lunghezza fuoritutto di 8,50 m e una larghezza di 2,55 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo e fornite con l'allestimento Bellagio separate dai motori, motore che vede una potenza minima di 250 CV fino ad arrivare a un massimo di 4,25 CV disponibile sia in singola che in doppia motorizzazione. In più, guardate, con l'allestimento Bellagio è fornito anche rivestimento SIDEC, quindi rivestimento in eva comodo anti-sdrucciolo, con questa colorazione particolare non solo della murata ma anche della tappezzeria che consente quindi un colpo d'occhio davvero incredibile. In più c'è questa striscia rivestita anch'essa in eva che permette di avere un minor dislivello e passeggiare da un lato all'altro e quindi sfruttare entrambe le plancette come area indipendente. All'interno della plancetta di sinistra inoltre c'è la scaletta di risalita a scomparsa e opzionalmente è possibile integrarla anche nell'altra plancetta. L'accesso a bordo avviene sul lato di sinistra tramite questo corridoio, guardate, comodo e ampio in modo tale da poter accedere agevolmente a bordo. Qui c'è la galloccia per l'ormeggio e guardate anche la predisposizione per i pali in acciaio, per la tenda araba perché in questo caso la barca è fornita anche con il T-top in colorazione in tinta con la murata. Quindi grazie alla tenda è possibile ombreggiare l'intera porzione di poppa. Accediamo quindi a bordo, qui c'è un piccolo gradino per dislivello e arriviamo quindi in pozzetto. Pozzetto libero da ingombri, in questo modo possiamo passeggiare tranquillamente da un lato all'altro e muoverci per l'intera larghezza interna del scafo. In più ci sono queste comode poltroncine ricavate all'interno delle murate e fornite di serie con divanetto di poppa lineare per tre ma anche quattro persone e spalliera che può essere ribaltata verso poppa per raddoppiare la sua estensione. In più il divanetto è gavonato al suo interno, sollevandolo si ha accesso alle batterie, gli impianti, alla pompa di sentina e spazio per lo stivaggio. E guardate, qui c'è la predisposizione per un foro per installare una base fissa con tavolo e avere una grande dinette di poppa perché in questo modo sfruttando il divanetto e le due poltroncine all'interno delle murate possono trovare posto davvero tantissime persone. E in più sfruttando la stessa base del tavolo è possibile abbassarla a livello dei cuscini e aggiungere un altro cuscino per avere un unico grande prendisole di poppa. In più c'è la possibilità di sollevare il piano di calpestio per accedere ai serbatoi che sono presenti al di sotto del piano di coperta oltre a tanto spazio per lo stivaggio. In questo modo possiamo effettuare tutte le operazioni di rimessaggio sia ordinario che straordinario. Poco più avanti si trova il blocco seduta, blocco seduta in vetro resina con alle spalle il frigorifero con porta abbattente mentre da quest'altro lato c'è un portello con accesso interno non solo per l'ispezione al motore del frigorifero ma c'è anche la possibilità di installare la bombola perché sollevando la seduta si ha accesso al blocco cucina. Cucina quindi esterna con fornello tradizionale in questo caso e lavello ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura o avere un comodo piano d'appoggio. Ci spostiamo verso prua, guardate c'è un gradino perché c'è un dislivello dovuto all'altezza della cabina interna ma ci arriveremo tra un attimo. Arriviamo nella seduta di comando, divanetto lineare con schienale fisso per due persone e quando siamo in plancia di comando io sono comodamente seduto puntando i piedi sul gradino in basso, ho il timone davanti a me, guardate non ho difficoltà con l'ingombro con le ginocchia, stereo qui sulla sinistra, interruttori on off su un unico livello e qui c'è la predisposizione per il display multifunzione con bussola ben visibile in alto. Ovviamente anche qui il layout è totalmente personalizzabile secondo le esigenze, qui c'è il controllo dei flap mentre da quest'altro lato c'è la predisposizione per le manette di potenza. Qui vi mostro anche i montanti del T-top, guardate che scaricano a terra quindi riducono il movimento ma al tempo stesso offrono un buon appiglio perché guardate qui quanto sono doppi quindi abbiamo sempre un punto dove poter avere una presa a bordo, oltretutto guardate anche l'altezza delle murate perché a poppa arriva all'altezza del mio fianco poi va ad abbassarsi rispetto al piano di calpestio ma supera anche il ginocchio abbondantemente. In più da centroscafo parte la battagliola alta e solida e c'è anche la maniglia tientibene ricavata dal profilo in acciaio del parabrezza che permette quindi di superare i due gradini e accedere al passo avanti. Guardate qui doppio gradino e arriviamo nella zona di prua che è totalmente rivestita di cuscini quindi comodissima con rialzo nella porzione rivolta verso poppa a fornire un supporto per la testa ma abbiamo anche lo scudo qui a formare una chaise long davvero molto pratica per due persone con integrati due altoparlanti dello stereo. Arriviamo quindi nella porzione anteriore guardate anche la larghezza della prua anch'essa rivestita in eva con portello sollevabile a rivelare il verricello. Verricello quindi monitorabile dalla plancia di comando quando solleviamo il portello con l'attuatore in questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando in plancia di comando perché riusciamo a vedere non solo il verricello ma anche il musone. Invece stando a prua c'è il controllo qui del salpa ancora e anche il vano di spezione della catena e anche l'accesso per il motore del verricello. Completa l'allestimento la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro la battagliola che va ad alzarsi ulteriormente in questo modo anche quando si scende di prua è possibile avere un pieno supporto e il gradino per agevolare appunto la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua. Ritorniamo verso poppa guardate c'è un doppio passaggio simmetrico quindi davvero molto comodo perché possiamo circolare intorno alla barca senza difficoltà ed entriamo in cabina. Ingresso in cabina con porta a scorrimento sul lato sinistro della plancia qui ci sono dei gradini alternati e vedete c'è una prima zona di disimpegno con due gradini per ridurre il dislivello e arrivando qui in questa prima area vediamo che sulla sinistra c'è spazio per lo storage mentre verso prua c'è la cabina armatoriale con il letto matrimoniale con porzione centrale che può essere sia rimossa come in questo caso per agevolare il movimento che è sollevata opzionalmente aggiungendo una base per avere un piccolo tavolino con una dinetta interna. Non manca l'ariazione grazie ai tre oblò presenti in questa zona della cabina e assente il passo d'uomo ma è disponibile anche l'aria condizionata e guardate in più anche le vetrate che offrono tanta luminosità qui in cabina, tasche e porta oggetti presenti lateralmente in questo modo tutti gli oggetti hanno una loro collocazione. In più al di sotto del piano di calpestivo verso poppa c'è la cuccietta ospiti, cuccietta ospiti con letto a una piazza e mezzo e un'altezza di circa 65 centimetri, in questo modo possiamo sfruttare la barca per crociere di famiglia con due adulti e due bambini oppure utilizzare anche questa zona per stivare il materiale e quindi avere il resto della cabina libera. Cabina che ha anche un'ottima altezza perché guardate io riesco a stare perfettamente in piedi, altezza interna di un metro e novanta che va ad abbassarsi nella porzione anteriore ma quando sono seduto vedete riesco a sfruttare pienamente l'aria e quindi possiamo vivere totalmente la barca sia all'interno che all'esterno. Infine in cabina separata si trova il bagno, cedendovi c'è quindi il locale indipendente con lavello spostato verso prua, mobiletti per lo storage, vc rivolto verso poppa e vi mostro anche l'altezza interna perché siamo superiori al metro e 75 nonostante ci sia il rialzo a terra dovuto all'impiantistica del bagno quindi possiamo sfruttare la barca in maniera totale con anche la presenza dell'oblò sulla murata per favorire il ricircolo dell'aria. E quindi cari amici questa è l'idea marino 80 a Bellagio, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!